Noi non l'abbiamo più, abbiamo l'euro. E che cos'è l'euro? È una moneta. Di chi è? Qualcuno sa di chi è l'euro? La lira era dell'Italia, in marco dei tedeschi, innegabilmente. Di chi è l'euro? Non è di nessuno. Non è neanche delle banche. L'euro è una moneta che non è di nessuno.